A Montevergine, come ben sappiamo, è un rito che facciamo ogni anno da tantissimi anni, veniamo a festeggiare la mamma schiavone. La mamma schiavone chi è? La mamma di femminielli. Perché? Perché come leggenda tantissimi anni fa, due ragazzi omosessuali vennero legati qui vicino a un albero. Era proprio l'uno del 2 febbraio di notte che nevicava e queste due persone sono state messe nude vicino a quest'albero. Il giorno successivo, che era il 2 della Candelora, salivano la gente e trovano queste persone nudi, che erano due ragazzi omosessuali, che stavano sotto la neve. E da qui volevano sapere come mai avevano vissuto queste persone e non erano morti. Loro dissero che era stata una donna che gli aveva appoggiato il mantello sulle spalle. E da quel momento la mamma schiavone è diventata la mamma dei femminielli, la mamma della comunità LGBT queer. Per me la Candelora è quella classica tradizione dei femminielli degli anni 70, anni 80, quando andavano a Montevergine, il 2 febbraio a Candelora con queste macchine scappottabili, avanti tutti pieni di fiori, con questi femminielli, perché li chiamo i femminielli, con questi cappelli tipo Angela Luce si andava su Montevergine. E dopo, ho sentito questo santuario, la bellissima Santa Messa, si andava a mangiare e si andava a fare la scampagnata. Questa è la scampagnata del 2 febbraio. Ho chiesto un miracolo questa volta a mamma schiavone per dire basta alla guerra. E basta a tante famiglie tra mamma e papà che si dividono dai propri figli. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Abbiamo replicato ancora questa grande manifestazione, viva le tradizioni, perché anche noi abbiamo il nostro patrono, che è la Madonna di Montevergine. E' stato molto piacevole e ancora c'è molto da vedere e da dimostrare. Grazie per questa bellissima giornata, ci sarò ancora un anno prossimo, no giorno 2 di febbraio. Grazie per la visione!